E dopo Catania, Roma! È un mini-tour, si conclude proprio il 2-3 ottobre, sabato e domenica prossima a Roma, allo Shopping Center Maximo, e lì vediamo cosa ci porterete dal Lazio, dall'Abruzzo, dalla Campania, dalla Puglia, insomma vi aspettiamo, evento a porte chiuse, solo per inviti, sapete che ancora le regole sono queste, ma seguiteci sui social. Eccoci qua, rispetto!